La corsa alla salvezza passa dal Petruzzi di Città Sant'Angelo, la Renato Cure Angolana deve fare a meno di Miani e Lombardi. Ciarcelluti viene schierato da prima punta, il Villa di Mister Vitale schiera il 2005 d'Angelo in porta, Paravati Rossi e Miani in attacco. Fischia Nazicone di Avezzano. Primo tempo clamorosamente ricco di emozioni, sugli sviluppi di un corner Ciarcelluti arpiona un pallone vagante e deposita subito l'1-0 per i Nerazzurri. Primo centro nella sua nuova esperienza per l'ex Pineto. Il Villa non demorde, anzi pareggia i conti. Angolo di Dincecco, indecisione di Marco Tullio con il pallone che varca la linea. Non ci sono pause, altro tiro dalla bandierina con Milizia che prolunga per Ciarcelluti, D'Angelo gli chiude la porta. Ma il giovane portiere non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Buffetti che vale già il 2-1. L'Angolana pressa tanto e spinge sull'acceleratore, il Villa fa fatica. Tacco geniale di Milizia, Farindolini ringrazia e cala al Tris con un diagonale potente e preciso. E' il Festival delle Occasioni. Milizia da due passi spreca mandando a lato il suo colpo di testa. Farindolini approfitta di un errore difensivo, salta di pentima ma pecca di precisione. Proteste dei padroni di casa quando non viene ravvisato un fallo di mano dentro l'area di rigore francavillese. Per il direttore di gara si gioca. Il 4-1 è comunque dietro l'angolo e arriva dopo l'ennesimo suggerimento di Farindolini. Ciarcelluti con freddezza cala il poker e la sua doppietta personale. Per il Villa piove sul bagnato nel finale di pentima, incassa il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Nella ripresa contatto tra Adahovo e Desiderio, calcio di rigore assegnato dal dischetto, si presenta Tidiane con D'Angelo che intuisce e si guadagna altri complimenti dai suoi compagni di squadra. Quasi a sorpresa accorciano gli ospiti, messi meglio in campo. Il cross di Dincecco viene bucato dalla difesa, Rossi sotto misura fa 4-2. Dall'altro lato bella la girata di Tidiane che sfiora il palo alla destra di D'Angelo. Nel finale ancora Villa, Dincecco manda alto un tiro da ottima posizione, poi è Marco Tuglio con un'uscita provvidenziale a evitare guai grossi. La Renato Curiangolana dà così continuità al successo di Lanciano, ottenendo tre punti pesanti per la classifica. Il Villa 2015 esce sconfitto con onore e dopo un buon secondo tempo. Noi oggi abbiamo fatto una partita importante, al di là comunque poi della difficoltà della partita. Il Francavilla ultimamente stava mettendo in campo un buon calcio, ha messo in difficoltà l'Avezzano domenica scorsa, quindi le partite poi le devi giocare, le devi vincere. Nel primo tempo la mia squadra penso che abbia creato 10 occasioni da rete, però non sono contento del secondo tempo perché siamo rientrati per cercare di giocare individualmente e non di squadra e quindi sono contento solo del primo e non del secondo tempo. Sarà difficile ridare la 9 a Miani dopo una bella partita di Sarcelluti? Oggi avevamo quattro persone indisponibili e poi parliamo di giocatori importanti senza fare nomi. Ho spostato Marco davanti, ha fatto una partita importante nel primo tempo, oltre ai due golli poteva farne altri due o tre, quindi sono contento per lui, ma è tutta la squadra che si è espressa molto bene nel primo tempo. Ripeto, non mi è piaciuto l'atteggiamento del secondo tempo. Sì, nel primo tempo abbiamo trovato delle difficoltà col campo, forse l'atteggiamento un po' sbagliato. Nel secondo tempo siamo rientrati anche in 10, bene, con l'atteggiamento giusto, quello che ho chiesto a fine primo tempo ai ragazzi, di essere uomini, anche se sono veramente ragazzi. Oggi il portiere 2005 ha fatto una grande partita, il difensore centrale 2004, desiderio all'esordio. Tanti ragazzi giovani che stanno crescendo, però ci vuole un po' di tempo.